Condannati in primo grado con l'accusa di omicidio preterintenzionale i quattro addetti alla sicurezza portuale imputati per la morte di Stefano Federico, il ragazzo di Capri di 32 anni che perse la vita a seguito di un pestaggio il 16 gennaio del 2011 sul porto di Napoli. La quarta sezione della Corte d'Assise del Tribunale di Napoli, presidente Giovanni Pentagallo, ha condannato tutti a otto anni di reclusione ciascuno. Furono loro, secondo quanto stabilito dai giudici, a determinare la morte di Stefano, aggredito e colpito senza validi motivi dopo un normale controllo. Marco Gargiulo, 35 anni, di Torre del Greco, Carlo Berriola, 43 anni, di Portici, Armando Davino, 32 anni, di San Giorgio a Cremano, Vitale Minopoli, 45 anni, di Napoli. Questi i nomi dei condannati, tutti addetti alla sicurezza all'interno dello scalo marittimo di Napoli per conto di una società privata. Il pubblico ministero Luigi Sandulli aveva chiesto 10 anni, la Corte invece ha concesso agli imputati una serie di attenuanti. I quattro sono stati condannati anche al pagamento di una provvisionale dei confronti dei familiari di Stefano e sono stati interdetti dai pubblici uffici. Il giovane Caprese perse la vita dopo essere stato bloccato dagli uomini della security, mentre il 16 gennaio di due anni fa stava percorrendo a passo svelto un tratto, il cui accesso è interdetto, dell'area portuale napoletana, diretto agli imbarchi di calata porta di massa, il molo di attracco dei traghetti in arrivo e in partenza per le isole. Dopo uno scambio di parole e di accuse ci fu una colluttazione e Stefano fu accerchiato e aggredito, morendo poco dopo. Le indagini della Polizia Marittima portarono a seguito di accurati accertamenti e grazie alle intercettazioni, ad alcune testimonianze e ai filmati delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, all'individuazione dei responsabili per i quali è stata letta la sentenza di condanna. Sentenza emessa, ironia della sorte, nel giorno in cui Stefano avrebbe compiuto 35 anni. Stefano Federico, che lavorava presso un albergo di Napoli, era un poliglotta, conosceva arti e culture orientali, appassionato di origami, antica arte giapponese, amava i viaggi e lo sport. Siamo entrati nella sua stanza, dove i familiari custodiscono gelosamente tutto ciò che era caro a Stefano. Tante foto, libri, origami, ricordi di viaggi e frammenti di vita. Ascoltiamo Gino e Marco Federico, il papà e il fratello di Stefano. La sentenza è stata fatta un po' di giustizia. Forse noi in famiglia ci aspettavamo che venisse confermata la richiesta del Pubblico Ministero di 10 anni, ma va bene così perché il processo è stato lungo, complesso, difficile e ha impegnato tante energie nervose della nostra famiglia, in primis di Marco che l'ha seguito. L'unica cosa che posso dire è che forse siamo rimasti un po' delusi della mancanza di sensibilità verso la nostra famiglia. Ci aspettavamo dal primo momento una parola, un gesto di vicinanza, di cordoglio da parte di chi ha commesso questo crimine. Invece no, questo ci addolora tanto e ci tenevo a dirlo. Stefano, mi piace ricordare Stefano che suonava la mia chitarra spesso sul divano in salotto, che scriveva, si esercitava continuamente nei cangi giapponesi, in questa lingua da lui tanto amata. Stefano è una persona particolare, un idealista, amante della vita e del prossimo. Lui si sentiva molto legato alla cultura giapponese e infatti ha mutuato da questa cultura la grande spiritualità, spiritualità che i popoli orientali e in particolare i giapponesi antepongono alla vita materiale, mentre da noi magari è un po' il contrario. Stefano era anche un grande sportivo, amava andare sui pattini, in bicicletta, ma il pattinaggio era la sua grande passione. Autodidatta in tutto, io ho insegnato a lui pochi accordi, poche scale cromatiche, ma poi tutto il resto l'ha fatto da sé, ha studiato la chitarra ed era diventato anche bravo, aveva raggiunto un buon livello. Però lui era anche molto riservato, molte cose noi le abbiamo scoperte dopo, dopo che lui è partito. Molti origami o poesie le metteva nei libri, quasi a nasconderle dagli sguardi. Questa cosa qua ci ha fatto tanta tenerezza e ci ha fatto capire tante cose. Io comunque, come ho detto alla presentazione del libro, nonostante tutto quello che è successo, e questo mi considero una persona fortunata perché ho vissuto per 32 anni accanto a Stefano una persona veramente speciale. Stefano era un grande amante delle lingue, lui parlava correntemente il francese, l'inglese, lo spagnolo, ma soprattutto il giapponese, il giapponese imparato da autodidatta, il giapponese lui lo scriveva, lo parlava, lo leggeva e conosceva tantissimi cangi. I cangi sono praticamente una forma d'arte e lui questa forma d'arte l'ha trasferita anche nella lingua italiana, nella lingua madre. Lui ha trasferito la scrittura ideografica adattandola alla lingua madre. Questo solo una persona di grande sensibilità, un artista completo potrebbe farlo. Voglio concludere dicendo che Stefano continuava a studiare fino agli ultimi giorni, noi abbiamo scoperto che lui stava studiando, dagli appunti suoi studiava il russo e l'arabo, aveva cominciato ad esercitarsi e stava studiando un altro strumento musicale, il pianoforte. Stefano era anche una persona legatissima ad alcuni poeti, due in particolare italiani, Leopardi e Montale, e uno su tutti, quello che amava di più, il francese Charles Baudelaire. Lui aveva fatto una versione personale, una traduzione dell'Albatro, questo maestroso uccello che in cielo ha delle enormi ali e maestroso e magari a terra invece si muove con fatica. Stefano si era identificato in questa bellissima figura. Un'altra cosa che voglio dire di Stefano è la grande abilità nel confessionario origami. Lui aveva tanti libri, ha studiato, però aveva raggiunto una manualità veramente eccezionale, tanto da confessionare delle forme particolari come la fenice e la cometa, che non si trova in nessun libro. Lui l'aveva fatta così personalmente. Chiudo questa intervista citando una frase alla quale lui era molto legata e appartiene proprio alla cultura giapponese. Lui l'aveva tradotta in tutte le lingue. Il fiore perfetto è una cosa rara, si potrebbe passare l'intera vita a cercarne uno e questa non sarebbe una vita sprecata. Mio fratello Stefano era una persona, non perché era mio fratello, ma posso dirlo con tranquillità, una persona sui generis. Era un tipo speciale, era dotato di un intelletto e di un'arguzia fuori dal comune, tant'è che aveva sempre un punto di vista sulle cose diverso e mai banale. Ti costringeva sempre a pensare in una maniera diversa. E poi oggettivamente era un po' l'iglotta autodidatta, insomma anche da un punto di vista lavorativo è sempre stato encomiato. e poi aveva delle doti artistiche, insomma di sua natura, che è riuscito nella sua pur breve vita a coltivare con grande successo. Il fatto che purtroppo lui sia andato via così prematuramente e soprattutto attraverso un episodio di violenza questo ci ha distrutti, ci addolora moltissimo. Naturalmente quando una persona così giovane va via e soprattutto un familiare è molto difficile riuscire a conciliare il dolore con il resto della vita. Però poi insomma questa vicenda ha avuto gli sviluppi che ha avuto. Io posso dire semplicemente nel ricordarlo e insomma nel sentirlo ancora forse più vicino di prima e nel ricordare tutti i suoi modi di pensare, i suoi insegnamenti e le sue attitudini che nell'immediatezza di questa triste vicenda e di questa tragedia forse il mio lavoro mi ha aiutato moltissimo a poter fare qualcosa per lui. Dico semplicemente che il giorno dopo io stavo nella Camera del Pubblico Ministero a fare il mio lavoro vestito giacca e cravatti in procura non so quanto questa cosa può avere inciso su come sono andate le cose ma questo mi ha aiutato a poter fare qualcosa per lui perché insomma fino a ieri continuerò a lavorare anche per lui. Il paradosso proprio della mia vita ha voluto che io da giovane penalista e l'ambizione è quella di arrivare in corte d'assise a fare un processo io ci sono andato nella duplice qualità anche di perso un'offesa per questo maledetto processo potessi tornare indietro magari non mi scriverei neanche a giurisprudenza se potessi cambiare lo stato di fatto delle cose ma so che purtroppo non è possibile. Per quanto riguarda poi la sentenza che è stata emessa ieri dalla quarta corte d'assise di Napoli è vero che 8 anni effettivamente sono pochi ma per me neanche 30 anni potrebbero essere equi o giusti per la perdita di Stefano ma neanche l'ergastolo, questo è imprescindibile però da addetto ai lavori, da avvocato penalista posso dire che per come sono andate le cose per quello che era il capo di imputazione per la complessità del processo teniamo conto il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni ed è difficile che il giudice poi vada oltre una richiesta del pubblico ministero accade in casi molto rari teniamo conto che comunque erano incensurati che bisogna dire che non c'è stata la volontarietà della morte non è un omicidio volontario, questo va detto fin da subito che comunque queste persone alla fine sono state condannate tutti quanti tutti e quattro alla stessa pena che sicuramente forse se non si scendeva sotto la pena richiesta dal pubblico ministero magari ci avrebbe fatto più piacere però le generiche sono state concesse con un giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata ciò comporta che in grado di appello questa questione non sarà deducibile si tiene conto anche del fatto che comunque sono stati condannati i responsabili civili, le società sono state condannate al risarcimento del danno ecco, complessivamente io posso dire che portiamo a casa un risultato che può essere definito favorevole ecco, in questi sensi, volendo fare un giudizio oggettivo è anche sistematico io ho pensato molto in questo periodo, in questo dolore alle famiglie delle vittime di casi simili che non sono riusciti ad avere un risultato tra virgolette favorevole come il nostro come la nostra famiglia ottenuti penso al caso Cucchi, al caso Uva, al caso Aldo Vorandi ho tenuto conto che c'è la differenza che là si trattava di forze dell'ordine però ecco, dico che facendo una valutazione complessiva e oggettiva dico che siamo un poco più sereni soprattutto per il fatto che il dolore della nostra famiglia la nostra vita è rovinata per sempre però adesso sappiamo è stato accertato che ci sono dei responsabili e che anche la loro vita è rovinata questo ci fa stare più tranquilli e sicuramente penso che anche Stefano da lì su possa riposare con una maggiore serenità questo mi aiuta ad andare avanti e niente, infine io voglio ringraziare con grande rispetto e con grande amicizia il collega Fabio Greco al quale io sono legato non solo da un'amicizia da molti anni ma anche da una stima professionale reciproca e che ha fatto il lavoro e mi ha rappresentato con il massimo dell'abnegazione io non avevo dubbi ha affrontato questo processo come se fosse cosa sua ed è riuscito a portare insomma a termine un risultato comunque notevole e quindi lo ringrazio di cuore per quello che ha fatto e quindi lo ringrazio di cuore per il massimo dell'abnegazione